Lo sviluppo e le prospettive del settore economico turistico e alberghiero dell'Alta Marca Trevigiana passano anche dalla città della Vittoria, come la formazione qualificata di un istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione. Al microfono del quotidiano del Piave Letizia Cavallini, dirigente scolastico dell'istituto Alfredo Beltrame di Vittorio Veneto, Professoressa Cavallini, parliamo dello stato dell'arte della scuola italiana. La preparazione dei nostri ragazzi è adeguata alle richieste del mondo del lavoro e quanto è importante nel settore recettivo? Io penso che in quest'ambito ci possa essere sempre un'evoluzione e un miglioramento. Il mercato del lavoro, gli stakeholder esterni con i quali noi lavoriamo, alle volte comunicano un mismatch tra quelle che sono le competenze in uscita degli alunni in generale dalla scuola e le competenze richieste dal mondo del lavoro. Devo dire che per quanto riguarda il nostro istituto il livello di occupazione che i nostri ragazzi hanno è molto elevato, tant'è che è maggiore la richiesta dell'offerta che l'istituto può produrre. E siamo riconosciuti come un istituto di eccellenza, pertanto devo dire che posso con molta umiltà anche affermare che le nostre competenze sono in linea con quelle richieste. Però c'è anche da dire questo, che come ben dice il decreto legislativo 61 della riforma degli istituti professionali, queste sono scuole territoriali dell'innovazione. E quindi quando si parla di innovazione si parla di sviluppo, di ricercazione, di continuo percorso per costruire nuove competenze, quelle che vengono richieste man mano nell'evoluzione del mercato del lavoro. Che cosa significa per lei rappresentare questo istituto d'eccellenza intitolato alla memoria di una figura come quella di Alfredo Beltrame? Sicuramente un grande impegno, sicuramente una passione e anche una sfida, perché si raggiunge un risultato e poi si alza l'asticella per raggiungerne un altro. Io sono molto contenta e orgogliosa di essere dirigente di questo istituto. L'ho ereditato da insigni colleghi che mi hanno preceduta e devo loro quello che ho trovato e che ho imparato da loro. Sono anche molto felice di avere un corpo docente che è appassionato di questa scuola e devo a loro l'evoluzione dei progetti che noi stiamo portando avanti. Chiaramente è un impegno perché Beltrame, come Gira Mondo, ha portato la cultura trevigiana nel mondo e l'ha arricchita dei sapori, dei colori, dei paesi dove lui ha vissuto e in modo particolare l'Egitto ha saputo arricchire la cultura della enogastronomia trevigiana e noi stiamo cercando di fare lo stesso percorso cioè fare in modo che i nostri ragazzi si appassionino allo studio e alla ricerca affinché ci possa essere un'innovazione nel mondo del food e del beverage. Quella che è la sfida più grande e la responsabilità che mi sento come dirigente di dover sostenere è proprio quella di accompagnare il mio istituto in questo percorso di innovazione condiviso con il territorio per mantenere gli eccellenti risultati che fino ad oggi ha dimostrato di saper raggiungere. Cosa si sente di dire a tutti quei ragazzi che scelgono di intraprendere questo percorso formativo in questo periodo storico particolare dove la valorizzazione del territorio diventa davvero fondamentale? C'è una definizione che viene data di questi ragazzi, sono menti d'opera. Non basta saper fare, saper avere un'abilità tecnica. Loro affronteranno il mondo della complessità e quindi devono saper risolvere dei problemi, saper costruire uno spirito imprenditoriale, cioè saper analizzare, osservare, comprendere, capire e per raggiungere questi obiettivi ci vuole applicazione, fatica e studio. Quello che io osservo è che i nostri ragazzi quando si iscrivono in classe prima e seconda, mediamente, non pensano che il loro futuro vada oltre questi cinque anni di percorso. In realtà poi crescono, si sviluppano e inaspettatamente, se vogliamo, arrivano in quinta e il 15% di loro poi continua gli studi a livello universitario. Due giorni fa si è laureata una nostra ragazza in scienze e tecnologie alimentari a Udine, ha vinto anche già una borsa di studio come dottore di ricerca, il che significa che la costruzione, giorno per giorno, del proprio cammino e del proprio percorso può portare a dei risultati inaspettati per questi ragazzi. The Land of Venice è un territorio magico, è un territorio con una cultura storica importante, con un patrimonio artistico importante, con una cultura enogastronomica da valorizzare. Quindi per conoscere le tipicità dei prodotti locali e per apprezzarne le differenze è importante applicarsi, studiare, fare i confronti, vedere la resa di un prodotto rispetto a un altro e quindi imparare a scegliere. Quello che io spero è che i miei ragazzi entrati nel mondo della professione si ricordino dei valori che hanno appreso in questa scuola. Il profitto non può essere l'unico ideale. Per valorizzare un territorio bisogna fare delle scelte di qualità e fare delle scelte di qualità significa alle volte anche guadagnare un po' meno, però significa promuovere il territorio, significa poi avere un volano di crescita economica che viceversa si rischia di perdere. E questo è l'appello che io faccio ai miei studenti per ognuno dei profili per i quali loro si diplomeranno.